Ancora un maxisbarco di migranti a Lampedusa, dove nella serata di domenica ha traccato un peschereccio di 12 metri con 238 persone a bordo. L'imbarcazione è stata individuata e posta sotto sequestro dai militari della Guardia di Finanza. In base agli accertamenti svolti è emerso che i 238 migranti sono egiziani, siriani, bengalesi e palestinesi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'imbarcazione era partita dalla città libica di Zuara. Quest'ultimo sbarco ne segue un altro già verificatosi in precedenza, quando altri 117 migranti erano stati soccorsi dalle motovedette che pattugliano costantemente il Mediterraneo e in particolare la zona delle Pelagie, uno dei punti di approdo più gettonati da scafisti e non. Tra la fine di agosto e l'inizio di settembre erano già sbarcati altri 654 migranti sulle coste siciliane. Il più grosso sbarco aveva visto l'arrivo di 128 persone, tra egiziani e bengalesi. Nei giorni scorsi era stata anche registrata la presenza all'interno della struttura di accoglienza di Lampedusa di 1734 persone, quando la capienza massima è di 350 posti.